Il futuro di Fano dipende anche dallo sport. Giuseppe De Leo, come cambierebbe la situazione del Fano Calcio, che è un po' la squadra che rappresenta la nostra città, per quanto riguarda la sua candidatura a sindaco? In questo momento mi pare che l'alma Juventus Fano, mi piace chiamarla così, si trovi in una situazione molto difficile, sprofondata, mi pare, negli ultimi posti della classifica. Una squadra che era abituata a ben altri campi, Modena, Parma, Brescia, Cremonese, Spal, invece gioca col Monte Rotondo, insomma, peraltro non vince nemmeno, quindi c'è anche questa sfortuna. Penso che si meriterebbe molto di più questa squadra, per la città, per tanti tifosi che ancora la stanno seguendo, con incommiabile abnegazione e tanto coraggio. Penso che questa squadra meriterebbe ritornare almeno agli albori che ci ha sempre abituati in questi decenni, almeno in Serie C. Lei ha qualcosa da dire al presidente russo? Io non conosco il presidente russo, quindi non posso dare alcun giudizio sulle persone, leggo solo sulla stampa, sui giornali, mi pare che non sia sbocciato il grande amore con la tifoseria. Leggo anche che spesso si lamenta di non essere aiutato, di voler lasciare, se questa sarà la sua decisione finale, io mi auguro che almeno porti a termine in modo onorevole questa stagione e poi dopo si vedrà. Conosce eventuali imprenditori che potrebbero subentrare? Sì, ci sono almeno due imprenditori importanti che potrebbero a stagione conclusa subentrare per rilevare questa società e per poter rilanciarla a livello alto. Ovviamente tutto è collegato anche ad una funzionalità diversa anche del campo, dello stadio in cui opera in questo momento. Si gioca allo stadio Mancini, glorioso stadio Mancini, ma in questo momento mi pare assolutamente inadeguato, basta pensare che non sono parcheggi attorno, questo sarebbe un discorso da affrontare in termini molto concreti. Come risolverebbe il problema dello stadio Mancini? È da pensare a uno stadio nuovo, uno stadio nuovo che dovrebbe sorgere in un'altra zona, io ho individuato la zona di Chiaruccia perché l'idea è quella di avere una cittadella dello sport in quell'area lì, lo stadio è importante con il palazzetto dello sport, parcheggi, tutte attività ancillari che in qualche modo vanno a irrobustire l'offerta. Noi abbiamo bisogno anche di un palazzo dello sport, vero, noi adesso abbiamo il Salvatore Riende che viene definito palazzo dello sport, ma in realtà è un palestrone, non è più idoneo, ha svolto la sua funzione per tanti anni, ma anche qui guardando il futuro noi dobbiamo pensare a un nuovo palazzo dello sport che a mio giudizio, sentendo i tecnici, dovrebbe avere una capienza di 4-5 mila posti. Il palazzo dello sport ovviamente deve ospitare tanti eventi, non soltanto la pallavolo per esempio, ma anche la ginnastica artistica, può ospitare eventi, non abbiamo un contenitore degno di questo nome, quindi benvenga questa soluzione.